Ciao, sono Roberto Pizzocchero, con i miei fratelli Lorenzo e Laura lavoro nella mia azienda di famiglia. Ci troviamo a Caravaggio in provincia di Bergamo. La nostra azienda è composta da una stalla di 400 vacche in sala muggitura e 2500 suini grassi. Abbiamo anche un impianto di biogas che funziona solo all'efforzio tecnico e sopra i tetti abbiamo tutto l'impianto di fotovoltaico. In più abbiamo anche un piccolo punto vendita da ormai 25 anni dove trasformiamo parte delle carni suine che produciamo in azienda e lavoriamo una piccola quota di latte, tutto fatto con i nostri animali. Inoltre lavoriamo circa 250 ettari di terreno, la maggior parte va a mais, poi vi facciamo orzo, frumento, abbiamo dei prati stabili e medicai. Raccogliamo tutto con le nostre macchine e ovviamente tutto quello che produciamo nei terreni viene utilizzato per alimentare i nostri animali. Abbiamo scelto Deus ormai dal 99, le prime macchine ormai non ci sono già più. L'abbiamo scelto perché negli anni ci siamo accorti che è una macchina molto efficiente, molto produttiva, nel tempo i consumi sono molto ridotti. L'assistenza tecnica e i meccanici che ci seguono sono molto efficienti, quindi molto probabilmente anche nei prossimi anni sceglieremo questo marchio.